Carote, carote, solo carote Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono su... Favij e oggi siamo Happy Wheels The Impossible Jump, primo livello di oggi Vediamo se ho perso il mio smalto No ragazzi, questo livello è veramente carino Come mai non ho mai giocato a niente di simile Cioè sì, simile sono l'Impossible, però Si rendi conto che non si può fare... E infatti si chiama Impossible per questo Cioè non si può fare, non ci può arrivare lì È una distanza troppo siderale, capito? Non puoi arrivare lì, a meno che non ti spingi No ma non c'è modo A meno che non fai saltare le bombe prima in qualche modo Ma non so come Maledizio... No ragazzi, ci devo riuscire, fermi tutti È veramente difficile ma ci devo riuscire Ti prego Pam, perfetto Lasciati, porco demonio Porca vacca, pensavo da prendesse lo stesso la moneta Che cosa ci fa lì, nonnociac? Allora ragazzi, io non mi muovo di qui C'è stato già un video dove in un episodio ho fatto un livello e non l'ho finito Proverò a vedere seppur in questo, attenzione Questo era buono La tattica l'ho trovata ragazzi Allora, aspetta un attimo, devo sbattere sul bordo del gioco E poi... E poi darmi la propulsione dopo Scommetto che così riesco, però è molto difficile Bellissimo! Ragazzi, ragazzi, ragazzi È stato incredibile, fermi tutti Guarda, guarda la maestria, la maestria La maestria, pam! La manina, la manina, la manina Madonna, come sa Etta McQueen che vinceva con la lingua Oh, ci abbiamo messo un botto a fine del primo livello Ma ne valsa la pena, veramente fighissimo Nessuno l'avrà mai finito tranne me, secondo me Botto run! Cos'è The End? La fine demo De che? Ah! Sto guidando un va... Oh, la madonna! Ci devo colpire qualcuno con qui così lì? Ci sono degli stop Mi dicono di tornare indietro, cosa che io non farò Scusa nonno? Scusa nonno? Quanti non esistono? Spiegami che razza di mappa ho appena... Però la macchina è fatta bene Il resto è un po' meno Probabilmente Botto run più secrets Tension Bravo che mi amassi subito Duke Che tanto non mi serve Andiamo avanti Ragazzi, i botto run A me non mi danno sfida Perché sono troppo forte Perché sono troppo forte L'ho detto prima Basta Crea una zucca Beh, facciamo il livello di Halloween Va bene, dai Siamo a tema Halloween Creiamo una zucca Forza Allora, la zucca la facciamo Innanzitutto Ah, ma quanti colori ci sono? E la madonna Facciamo una zucca grigia Britta proprio Cioè, perché dovrei creare una zucca? Gli occhi della zucca E la madonna che ansia Questi Che ansia Secondo me c'è una roba orribile Il naso Il naso lo facciamo così Ah no, senza naso No, facciamolo col triangolo Dai, il triangolo Almeno il naso classico Control mentre cado Sono schiatto Ok Stem Non so cosa siano Ah, il gambo Il gambo della zucca Quindi il gambo Lo facciamo così Quello che sembra tipo Sudo Voodoo È un Pokémon La bocca la metti Cos'è? Una mazzara golf Quella come bocca Cos'è sta roba? Madonna Io direi che tra tutte Metterei questa qua Che mi sembra la più creepy Che è il sorrisino Bruttissimo Dovremmo avercela fatta Attenzione Gli accessori Cos'è sta roba? No accessori? No, non ho capito Cosa dovrebbero essere Sti cosi Fammi vedere il risultato final È veramente la cosa più inquietante Della mia vita Frankenstein zucca Zuckenstein Bello però Epic block puzzle Ah, ok Ah, che figo E devo farlo diventare tutto di un colore Giusto? Ma di colore bianco o di colore grigio? You must take out the square dark Dark grey to win Quindi tutti scuri Ok Io non sono mai stato bravo con i puzzle Perché sapete ci vuole il cervello Non lo vendono su Amazon Trovo sempre difficoltà Non è colpa mia Porco demonio Porco No È il contrario dovevo fare Vaffan... 328 AM Ragazzi Mi prego Basta Quanto difficile Aiuto Cosa devo fare qui? Basta Quanto sta durando sto gioco? Che fastidio Madonna raga No raga È veramente incredibile Mi sta durando una vita Guarda Rimane sempre un coso Madonna ora È veramente impossibile Come diavolo si Ma per se la sono studiata proprio Porca vacca Ma è solo per persone intelligenti questo Basta Basta credere in me Basta Anche mia mamma quando andavo a scuola Credeva in me Mamma faccio schifo Basta A posto Comunque 150 Ottimo 150 secondi per risolvere un enigma L'ha fatto il mio cane sto enigma Four season Quattro stagioni Spero sia una pizza Non è una pizza Sono morto Vediamo se riesco a fare il boost Proprio lui E non avevo È da un botto che non uso sti due ragazzi Non gli ho mai neanche dato un nome Talmente li uso poco Incredibile Angelo e Carla Chiamiamoli così Orca vacca E va bene ragazzi Buono 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 Perfetto 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 giù Angelo è morto Carla No Carla va Finchè la Carla va Lasciala andare No è morta anche lei Rifacciamo Allora qua ok Mamma mia E' veramente un livello difficile e complicato Però niente che io non possa fare ragazzi Ho giocato a Applebee's tutta la mia vita Allora aspetta che ci devo fare un giro fatto bene Arco demonio Fatto bene Perfetto Un altro Un altro che qua era un casino Mi ricordo prima Eccolo lì Perfetto Mamma mia Fare questi giri della morte è sempre un casino ragazzi Adesso Aiuto Mi scusi Non volevo Porca vacca Come il Nokia 3310 Pro sword throw Vediamo ragazzi Facciamo lo sword throw anche oggi Poi vediamo di fare un ball throw Quello si è fatto mia mamma E' già morto Già staranno però non lo colpisco Maledizione Ho colpito quello sopra Cadi sugli altri Vabbè fa niente Eh dai Di un po' di precision Bravissimo Bravissimo No Devi colpirla la gente Devi colpirla in faccia Prendi Prendi la G La G Bravo Due in uno Bravissimo Ora vedisi di fare la stessa cosa con questo davanti Bravissimo anche lui Quelli dietro Bravissimo Ragazzi Non è caduto Luke Però penso che non Sia necessario Teoricamente Ne vuoi un'altra? No perché ne ho ancora una E cadi Vabbè teoricamente ho vinto A click here to win Che pirla Era morto Quindi ho vinto a prescindere però Lancio degli oggetti In che senso? Ah proprio gli oggetti in generale Va bene Ah ci rompo le teche Bellissimo Allora open win La prima Vediamo Open win Non è quella che volevo colpire È cascato un cubo di rubik Va bene Con l'ananas dovrei colpire Arco demonio Che non era facile Già lo sapevo Però Allora riproviamoci Ridammi i cosi Benissimo Allora Via col ketchup Ho sbagliato È difficilissimo Maledizione Allora Devo colpire Open win I rossi non vanno colpiti Non colpire i ro- È difficilissimo Colpisci il tuo simile Che sta lì Bravo No Porca vacca Occhio occhio Mamma mia Che culo è andato nel verde La batteria del telefono Ma perché? Non ci entra neanche Nella vittoria Questa è impossibile Ma non ci entrava comunque Porca vacca Meno male che roteano giù Non si sa con che fisica È impossibile Attenzione No 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 Più due Più due Ma meno male Meno male Cumo di Rubik Dall'altra parte Eddie Ti prego No Dai Mio dio È stata veramente Mamma mia Era una questione Proprio di vita o di morte Ragazzi Ci sono stato un sacco Ma ho dovuto provarci Veramente difficile Rob swing text Non è il primo che faccio Era da un po' che non ne facevo uno Praticamente tutto il livello Dei rob swing Invece delle cose C'è scritto Che cosa sono le cose Questa è una rob Per esempio Quindi ti devi aggrappare E ti dice quando ci sono gli ostacoli Tipo quello è il pavimento Bellissimo È veramente un ottimo È un ottimo Non so chi l'ha avuto per prima Come idea Però l'avevo già fatta Una roba del genere Veramente figo Strano non c'era Nella gara Dei rob swing In dieci minuti Ragazzi Perché questo sarebbe stato Un gran livello Rotating platform Finish Anche il finish E la testa Va bene E manca Cosa che manca L'ho fatto tutti Ball throw Manca un ball throw Teoricamente Che non vedo Se riuscissi a concludere Col ball throw Sarebbe E lo spike fall Anche È l'impossible Allora Impossible spike fall E ball throw Allora Iniziamo con l'impossible Ok Quindi pam Evite Quello ce lo siamo tolto Perché quello È proprio Meraviglioso Skype fall Attenzione E anche questo Ce lo siamo tolto Perfetto Andiamo solo sul ball throw Per finire Ho vinto davvero Non l'avrei mai detto Andiamo sul ball throw E finiamo Teoricamente Quindi ho fatto Tutto il set Incredibile Tutto in una botta sola Ball throw semplice Allora Devo aprire la vittoria Che sta Beh è semplice Una sega in realtà Ragazzi Non è semplice E mi sta mentendo Ve lo assicuro Che non è semplice Che culo Porca vacca Non è semplice ragazzi Mi ha mentito Vi giuro Non è vero Ma to che si è successo Fortuna Perché ricordate Che l'ananas È perfetta Su qualsiasi Cosa Tranne sulla pizza Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Questo era Happy Wheels Di today Ho fatto un sacco di livelli Mi sono soffermato Un botto su alcuni livelli Ma Li ho finiti tutti Molto orgoglioso Di me stesso Ed è l'uomo Che sono oggi Iscrivetevi al canale Schiacciate il tasto Mi piace Schiacciate la campanellina Per rimanere aggiornati Sui nuovi video Che escono E noi come sempre Ci rivediamo All'un prossimo video Bella ragazzi Per rimanere aggiornati Per rimanere aggiornati